Chi sta facendo? Devo stendere la biancheria, la stendo dentro. Ma che stendono ancora lavati? Quella squinternata di Cinzia che ha l'apparecchio acustico e poi sente anche l'odore di questo meraviglioso ammorbidente rugolino al fior di loto. Ma che te ne hanno mandate due formati apposta, quello piccolo non c'è, ma che stai facendo? Ho tanta biancheria da lavare tutte le coperte di lana, i maglioccini, devono fare un odore, chi lo sai come sento, lo sai che faccio. Ciao Cinzia, scelte se lo vai a comprare. Ci potevo muorare un poco, rugolino, ora stendiamo. Ragazzi voi lo conoscete, sono meravigliosi. Stacchioreno Conde perché bucia ora arriva da sopra, magari me li prova, diciamo. Ma a me li si canta, e sono in là. Ehi, ma chiede ora mi suona sicuramente, amore. Non parlare più da Parli, noi non ci siamo, siamo partiti. Ma vede il video ora, dove? A Onolulu. E mi porto anche il rugolino. Vabbè ragazzi, due formati, li trovate in tutti i supermercati. Ma non li trovano sti cosi? Dove li trovano? Nei supermercati paghi poco, conad, punto shopping. Anche chi è della zona. Ehi, vabbè a dopo. A dopo speriamo che si cacciano un sentimento. Non deve sentire. A dopo, a dopo, a dopo. Ehi, vabbè.